Questo è un esercizio per facilitare la sensazione dell'apertura del torace. Le donne possono utilizzare il reggiseno stringendolo molto di più rispetto alla normalità, oppure possiamo utilizzare anche una corda o qualsiasi cosa che ci possa dare la sensazione di allargamento. Quindi vediamo come prendendo l'aria abbiamo questa sensazione che viene aumentata. Non dobbiamo estendere e quindi portare indietro la schiena, ma gonfiare il torace il più possibile mandando la pancia in dentro. Utilizzando una fascia elastica la sensazione sarà maggiore.